Amen Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Vi sono il giorno in cui i santi e i padroni non bastano più. Bisogna prendere allora il coraggio a due mani e volgersi direttamente a colei che è di sopra di tutto. Dobbiamo essere più attivi. E assieme a voi voglio rivolgere questa preghiera alla Vergine. Se potete mentalmente recitatelo anche a voi. Non ho nulla da offrirvi, o Vergine Sanca. Nulla da domandare. Vengo solamente a mandare per contemplarsi. Contemplare il tuo volto. Lasciare il cuore cantare. Nel suo proprio linguaggio. Quello dell'amore. Perché tu sei bella. Perché tu sei immacolata. La donna della grazia. Finalmente restituita alla creatura nel suo primo onore e nel suo sboccio finale. Così come è uscita dalle mani di Dio al mattino del suo originale splendore. Ineffabilmente intatta perché tu sei la madre di Gesù Cristo. che è la verità tra le sue braccia. E la sua stranza e il suo frutto. Perché tu sei la donna. Nell'antica bellezza. Dimenticata. Semplicemente perché esisti. Madre di Gesù. E madre nostra. Che tu sia sempre ringraziata. E amata e lo dà. Aiutoci a scoprire lo sguardo limpido. Il cuore culo. Le mani vaporiose. Capace di attrezzare. Bimbi e anziani. Come ha fatto il tuo figlio Gesù. Amo. Il Signore è estiva con noi. E con il tuo spirito. Ma nostro aiuto è il nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Sia benedetto in nome del Signore. Ora e sempre. E benedica a Dio di potente. Padre e figlio e spirito santo. Amo. Viva l'Immacolata. Viva Maria. A tutti i tuoi santo e i tuoi santo.